Il 50% degli studenti delle scuole superiori toscane tornerà in classe giovedì 7 gennaio. Lo hanno confermato il presidente della regione Eugenio Gianni, l'assessore regionale alla pubblica istruzione Alessandra Nardini e quelli a trasporti Stefano Baccelli, presentando le iniziative che hanno portato alla riapertura delle scuole in sicurezza. Io sono convinto e con me Alessandra Nardini, che è l'assessore competente o tutta la Giunta, che è importante che il rapporto con i propri insegnanti, il rapporto fra di sé sia essenziale per gli studenti in una fase così cruciale come quella dell'adolescenza. E quindi le scuole secondarie superiori in Toscana, anche complice il fatto che con i dati ce lo possiamo permettere, stamattina 313 contagiati, la Toscana è una delle regioni più virtuose in questo momento, quindi per noi il 7 si riparte. Tutte le scuole si sono già riorganizzate per garantire il ritorno in classe di metà degli studenti e la didattica a distanza per l'altra metà, nel rispetto di un protocollo di sicurezza che bloccherà sul nascere eventuali catene di contagio. Noi all'interno del cantiere scuola ci siamo coordinati con i vari soggetti, a partire dall'ufficio scolastico regionale, che voglio ringraziare davvero per la collaborazione costruttiva, con i comuni e le province rappresentate da ANCI e da UPI, insieme appunto agli altri due assessori sanità e trasporti abbiamo lavorato affinché questa ripartenza potesse essere in sicurezza. Per quanto riguarda la questione cruciale dei trasporti, dal 7 gennaio entreranno in servizio 329 autobus aggiuntivi a supporto del 2700 normalmente in funzione in Toscana. I tavoli provinciali, poi ben coordinati dai prefetti, sono stati la chiave di volta per questa organizzazione, peculiare per i singoli territori ma con degli indirizzi condivisi con la regione toscana che gestisce il trasporto pubblico locale. Il costo dei bus aggiuntivi è interamente a carico dello Stato.